Dopo l'annuncio bomba in molti sono certi che a Temptation Island arriva una delle cantanti più famose. Ecco quali sono le ultime news Attualmente sta andando in onda una nuova edizione del Love Reality Show di Canale 5 condotto sempre da Filippo Bisciglia Un format che è riuscito a conquistare tutti. Basta vedere gli ascolti dell'Auditel per capire come il programma sia uno dei più seguiti nella programmazione estiva televisiva L'ultima novità, come i fan sapranno molto bene, è che Temptation Island avrà una versione invernale. Dato che è stato reso ufficiale da Mediaset che verranno girate delle nuove puntate che andranno in onda nella prima parte della stagione televisiva di Canale 5 È proprio in questa prima edizione, Winter, che il pubblico potrebbe vedere l'ingresso nel resort di una nota cantante popolare che si è proposta a Pier Silvio Berlusconi Temptation Island, chi è la, cantante, famosa che vuole partecipare al programma Tra i personaggi che non disdegnano partecipare a Temptation Island c'è proprio Rita De Crescenzo La famosa cantante neomelodica, nota anche agli utenti di TikTok per i suoi video, vorrebbe entrare nel resort insieme al marito Salvatore Bianco dopo 30 anni di matrimonio per vedere come vanno davvero le cose tra di loro e per capire a che punto è il loro rapporto La cantante, infatti, ha sottolineato come il programma di Canale 5 sia ideale per mettere alla prova la solidità del loro matrimonio Rita per lanciare l'appello si è rivolta direttamente a Pier Silvio Berlusconi chiedendo direttamente a lui di fare qualcosa affinché lei e il marito possano partecipare alla trasmissione estiva La cantante ha poi sottolineato che nel caso fosse presa avrebbe dato il massimo per una buona riuscita televisiva Lei si immagini mio marito Salvatore negli stessi alloggi di Procaci Signorine? Chissà cosa potrebbe accadere, ha detto la De Crescenzo nel video mi piacerebbe metterlo alla prova Un appello accorato che i fan della cantante sperano sia accolto non tanto da Berlusconi ma dalla redazione della trasmissione che provina e sceglie le coppie da far entrare nel resort Sardo A questo però dobbiamo aggiungere che Rita De Crescenzo non rientra nel regolamento della trasmissione, dato che il programma richiede coppie non sposate e senza figli La cantante non solo è sposata con Salvatore, ma i due hanno anche un figlio che si chiama Rosario